Salve gente! Allora, ragazzi, sto ancora lesso, veramente non finisco più, porca miseria. Chi segue il canale sai da cosa mi sto riferendo, non vedo l'ora la settimana prossima. Deve farmi tre giorni un attimo, stacco un attimo, vado via per tre giorni a prendere un po' di forze e forse, forse, si incomincia ad arrivare alla fine di questa storia. Veramente, non ce la faccio più. Mi ripeto, chi è iscritto al canale sai di cosa sto parlando, se tu non sai di cosa sto parlando, probabilmente non ti sei iscritto al canale oppure hai visto qualche video ma non ti sei iscritto, comunque, clicca sulla campanellina, iscriviti al canale e lascia un like prima di abbandonare il video e nostra fama 76 su Instagram, se hai Instagram. Queste sono le cose, insomma, che vanno fatte e che vi ripeto sempre. Comunque, per dirvi che sono oggi, già so cotto e stavo a mezza giornata. Ieri sera ero distrutto, diciamo che ho fatto l'ultima cosa, diciamo, gli ultimi scatoloni massicci, ecco. Ho dato tutto ieri, ma è rimasta poca roba, però ero morto. E proprio ieri sera, invece, in realtà, ricevo una telefonata. Ragazzi, finalmente, dopo quasi tre anni, praticamente, ho parlato io personalmente col contatto dentro Formello. Sapete che ho un amico che ha questo contatto, che ci ha sempre dato informazioni quando io, tramite questo mio amico, gliel'abbiamo chieste e quando ci ha risposto, io vi ho detto cosa ci ha risposto. L'altro giorno, parlando con questo mio amico veramente cinque minuti, gli avevo detto ma è possibile parlarci una volta così e facci una chiacchierata così? E ieri mi aveva detto, guarda, proverò a farti chiamare. E ieri è successo questo, ho parlato finalmente con questa persona. È stata molto piacevole, la ringrazio. Non so neanche se guarda i miei video, onestamente, però, insomma, la ringrazio perché è stata disponibile, mi ha spiegato tante cose, mi ha parlato di tante cose. Ragazzi, purtroppo, la maggior parte di quello che mi ha detto, diciamo, a parte erano, diciamo, una chiacchierata amichevole, ma ci sono delle cose che mi ha detto in via confidenziale. Quello che però vi posso oggi raccontare in questo video, siccome che me l'avete chiesto proprio su Instagram in moltissimi, mi hanno detto, oh, Tari è arrivato al Capolini, hai visto, ha litigato, che ha fatto, che è così, mi ha spiegato un po' situazione. Una situazione che, in realtà, ci ha tenuto a sottolineare, già ci aveva accennato, e questo è vero, andiamo a recuperare diversi video fa, quando Sarri doveva firmare il rinnovo, e i giornali dicevano, ah, trovato gli accordi, armonia completa, ed è qua, ed è là, lui ci disse, e io ho fatto i suoi video, così vi dissi, parole sue, ovviamente, che in realtà era tutt'altro che armoniosa questa cosa. Si era trovato in linea di massima un accordo sul cosa fare, diciamo, un minimo di progettazione, progettazione che a Sarri andava bene, ma mentre il rapporto Sarri-Rotito si stava, diciamo, stava aumentando, c'era sempre la figura sullo sfondo di Tari, che in realtà non era convintissima di quella che era la programmazione in base ai discorsi di Sarri. Questo ce l'aveva detto, dopodiché, diciamo, abbiamo sorvolato ancora, tutti entusiasti, è qua, è là, quinto posto, è fresca frasca, in realtà poi esce fuori questo problema. Allora, ieri mi dice che, in realtà lui non era ovviamente presente a quello scatto che hanno fatto vedere con quella discussione dopo la presentazione delle maglie, però dice, così, almeno mi ha detto, guardate che il rapporto Tari-Rotito, spesso vede il presidente Ettare, diciamo, che sono due un po' capoccioni, due permalosi, non presuntosi, per me anche presuntosi, però diciamo permalosi, non vogliono essere attaccati sul proprio operato, spesso capita a suo dire che il presidente Ettare alzino la voce, alzino i toni, si prendano un po' a brutto muso, ma roba di qualche minuto, dopodiché si torna ad abbracciarsi e si prosegue, dice, tante volte lui è stato testimone di questo anche nei corridoi, di Formello, anche proprio all'aperto, ci sono tante volte dove c'è lo scazzo tra i due, più spesso di Rotito verso Tari che non Tari verso Rotito, e sicuramente lui ci dice che quello scazzo non era dovuto al fatto di Fabiani, perché di Fabiani interi e Formello lo sanno già da un paio di mesi, e si sapeva che stava arrivando a questa figura, si sapeva che avrebbe preso le donne e si sapeva anche se non al 100%, ma era quasi sicuro che sarebbe stata ceduta anche la primavera, quindi se lo sapevano tutti era impossibile che Tari non lo sapesse, quindi quello scazzo non poteva essere verso quell'argomento, per quanto lui conferma che la cosa ha dato fastidio a Tari perché Tari è incredibilmente legato al discorso primavera, anche se poi ha toppato alla grande, però in realtà lui è uno che ci teneva avere prima squadra e primavera, probabilmente perché ha più margini di manovra, perché se deve appioppare qualche giovane che qualche procuratore gli vuole dare, lo butta in primavera, non avendo questa più possibilità ha molto di più le mani legate, tant'è che infatti lui dice probabilmente lo scazzo che è avvenuto, visto che ultimamente è di questi sono gli argomenti con cui diciamo presidente e direttore sportivo spesso vanno a discutere, è sul mercato, probabilmente quella sera è successo qualcosa riguardante il mercato, è stata detta, fatta qualcosa e il DS ha un po' sbroccato, si suppone che sia questa la cosa, perché è questi gli argomenti, non può essere una cosa che Tare sa e risale, perché dovrebbe fare, probabilmente gli ha dato fastidio, non l'ha mandata giù, probabilmente a suo dire non questa cosa ci lavorerà molto sopra Tare fino ad arrivare probabilmente a non rinnovare con Lazio il prossimo anno ma per il momento discorso Fabiani non è il discorso per il quale Tare sbrocca, quindi quello che dicono si legge, no, perché Fabiani ha detto, perché, no, Tare era preparato alla cosa, discorso diverso il mercato il mercato finché c'è Tare Tare vuole guidarlo probabilmente perché avrà degli interessi avrà questo lo dico io ragazzi probabilmente perché avrà degli interessi perché servirà insomma con i procuratori servirà a fare ancora dei piaceri avrà delle cose in sospeso io questo ripeto immagino che sia così ma questa è una cosa mia fatto sta che però quello che mi viene detto è che Tare non ha piena libertà come prima sul mercato lo dito si intromette spesso lo dito spinge spesso su alcune cose per quanto lo dito sta cercando anche di fare un po' da mediatore tra Sarri e Tare perché si chiede a Sarri di prendere anche parte di ciò che secondo Tare sono buone buone soluzioni e Tare deve però anche accontentare in parte Sarri quindi Sarri vuole una difesa a un portiere che parli in italiano che si capiscano che possa partire da lì la manovra Tare sappiamo storicamente non è invece propenso per giocatori italiani sta cercando di mixare le cose diciamo questo è l'argomento di oggi questo è per rispondere a chi mi chiede Tare che fine farà ecco per quello che ci è stato detto Tare sicuramente si sta facendo i suoi conti i suoi ragionamenti per capire come finire questa stagione che sta per entrare non si dimetterà perché comunque a suo dire a sua impressione non ha un sentore di dimissioni quantomeno non prima della fine del mercato poi dopo la fine del mercato potrebbe anche dire io l'ho fatto e me ne vado più probabilmente finirà la stagione con la Lazio fino al termine del contratto il presidente non ci pensa minimamente a interrompere il rapporto con contare prima della scadenza del contratto fatto sta che però sì c'è tensione all'interno perché ci sono tanti punti di vista diversi e bisogna accontentare un po' tutti questa è un po' l'idea del presidente per quanto il presidente ci tiene a sottolineare e l'ha sentito lui con le sue orecchie non una volta sola che comunque alla fine è lui quello che deve è lui quello che comanda è lui quello che prende le decisioni quindi quando c'è da alzare la voce e dire oh ma hai rotto i coglioni se fa come dico io punto zitti e mosca il presidente entra a gamba tesa e rimette le cose a posto sembra insomma il padre di famiglia che deve attenere buoni figli buoni e quali di cade della alla fine tira l'orecchio qua tira l'orecchio là fa sbattere le capocce le rimette a sede e si va avanti però questo ambiente non è un ambiente salutare perché perché Tare è scontento in questo momento perché lavora insomma con tensione Sarri è partito con tensione cioè non è assolutamente contento del ritiro che sta per iniziare nel senso lì si aspetta che nel giro di due tre giorni massimo massimo quindi si parla di finire questa settimana gli arrivino almeno altri tre giocatori di cui almeno un portiere e due difensori questo è quello che si aspetta per questo fine settimana e questo contatto dice che si sta lavorando per fare questo per portare un portiere e due difensori a Sarri entro questo fine settimana ragazzi per il resto vi dico mi ha raccontato tante cose che mi hanno fatto anche piacere perché ci sono state un paio di chicche secondo me che non posso dirvi però che sappiate insomma possono essere notizie buone per la Lazio però per il momento prendete questo ovvero quello che mi ha raccontato di più in questo momento non posso dire se mi sarà data l'autorizzazione di dire altro lo dirò altrimenti me lo tengo per me comunque tanto prima o poi le notizie escono fuori e quindi saprete quindi ragazzi vi ricordo se volete altre domande a parte che vi rispondo quasi sempre immediatamente su Instagram ma comunque altrimenti faccio un blocco di domande e poi vi rispondo tramite tramite video se vuoi vedere questi video e queste risposte come sempre ricordati adesso prima di abbandonare il video il like innanzitutto poi iscriviti clicca sulla campanellina e olive dolci un blocco di domande